È stata una bellissima avventura, ogni volta che comincio un percorso del genere con i ragazzi è sempre molto emozionante perché la cosa più importante è non rubare sogni a queste persone ma dargli la possibilità di continuare a sognare e di credere in quello che stanno facendo e in questo caso è un percorso artistico dove ormai in un periodo di scorciatoia è sempre più difficile capire qual è la strada migliore a me è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto non costruire dei piccoli pinucci ma dare la possibilità a questi ragazzi di poter credere e di farcela dargli quella spinta emozionale, emotiva e motivazionale proprio per riuscire a scavalcare un momento difficile della loro vita quando sono adolescenti ovviamente è sempre più difficile per cui vedere nei loro occhi questa luccicanza o shining come si chiama Kubrick la voglia di continuare vuol dire che sono riuscito in quell'intento e questo mi rientra di gioia best academy be the best